Arrestato in strada delle Beregane dai militari del NORM in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio, un nigeriano 33enne domiciliato in città, gravato da precedenti e sottoposto alla misura cautelare dell'obbligo di dimora nel comune di Vicenza. E' segnalato quale assuntore di sostanze stupefacenti un cittadino italiano 37enne del veronese. L'arrestato è stato sorpreso mentre cedeva nove dosi di eroina per un corrispettivo di 80 euro ed è stato bloccato. Sottoposto a perquisizione personale è stato trovato in possesso della somma di 500 euro, ritenuta provento di attività di spaccio. L'arrestato al termine delle formalità di rito è stato portato in carcere a Vicenza in attesa dell'udienza di convalida.